...perizze della loro scomparsa. Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia. No, scusi, avevo un po' di... Come? Giovanni, non vado al barbiere neanche io, quindi... No, perché era proprio... Va bene, è meglio, sì. Questa volta non ripetiamo più. Mi permetto nuovamente, cari concittadini e cari concittadini, di rivolgermi a voi nel corso di questa difficile emergenza.